salve a tutti i ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video oggi vi mostrerò tre kit luce a led sul sito sl partas abbiamo qui sotto questi tre kit luce a led che adesso vi farò vedere che tipologia sono il primo kit è un kit h11 il secondo è il kit h4 e il terzo è il kit h3 sono tre kit totalmente full led e adesso vi farò vedere la comparazione tra l'uno e l'altro e anche dove abbiamo acquistati iniziamo con l'apertura dei pacchi ecco qua iniziamo nel primo kit questo qua come dicevo è il kit h11 e dovrebbe essere 6000 kelvin è un kit h11 che è specifico per il kit per le luci di fendinebbia queste qua sostituiscono le normali lampade alogene senza modifica basta andare lì smontare le tradizionali luci alogene all'interno del portalampada e andare a installare queste qua stesso qua sopra qua vi metterò dove l'abbiamo montato abbiamo da sulla mia audi a4 vi farò vedere l'installazione completa l'attacco è quello specifico h11 quindi non dovrebbe diventato che andare lì smontare la lampada originale e andare lì a installare questa lampada qua l'attacco è semplicissimo basta andare lì smontare il vecchio tirare fuori e mettere questo qua all'interno della confezione troviamo anche il manuale di installazione normalmente in italiano che dice passo passo come viene installato adesso passiamo al kit questo qua un kit h4 big xenon che è specifico invece per le altre macchine che hanno questo tipo di lampada che un'unica lampada funge sia da abbagliante che da abbagliante come sempre all'interno abbiamo il manuale di istruzioni ecco qua vedete questo qua è differentemente invece dall'altra lampada che ho appena fatto vedere ha due kit di led sullo stesso lato sia di qua che di qua uno è l'abbagliante e l'altro è l'abbagliante l'attacco è originale h4 quindi non dovete fare nessun altro nessuna modifica all'interno dell'impianto originale basta andare sganciare la lampada originale e andare a installare questa qua l'attacco è specifico proprio h4 quindi anche con l'attacco non potete sbagliare questo qua è differentemente da quello là che va in nesto questo qua ha una molla si sgancia la molla si tira via questa qua questa lampada e si mette la nuova all'interno della confezione troviamo due kit un kit completo due lampade in più come dicevo anche per l'altra la abbiamo il manuale di istruzioni di installazione in italiano che vi dice passo passo nello specifico come si installa poi passiamo all'ultimo kit questo qua più piccolino che è un kit h3 6500 calvin tutte e tre le lampade dovrebbero essere 6.6500 calvin queste qua che abbiamo appena acquistate anche qui all'interno della confezione troviamo due lampade h3 queste qua sono le di fendinebbia ecco qua con sempre gli attacchi originali basta andare lì a smontare la lampada originale e stesso nell'innesto della lampada originale andiamo a mettere questi qua senza portare nessuna modifica all'impianto originale l'installazione facile e semplice come vi dicevo basta solamente lì andare lì a smontare la lampada originale e installare questo qua non bisogna portare nessuna modifica all'impianto originale della macchina e sono tutte quante campus quindi all'interno della macchina non vi da nessun tipo di errore o di allarme il sito dove abbiamo acquistato queste lampade è il sito SL parts per chi già mi segue già sa bene il sito conosce bene il sito e conosce anche tutti quasi tutti i prodotti di questo marchio in più una volta voi volendo acquistare gli accessori prodotti o ricambi per la nostra macchina o anche moto giù alla fine dell'acquisto vi posso dare un codice sconto che si chiama antimo vag per quanto riguarda un ulteriore sconto al prezzo di acquisto per trovare questo sito basta andare tranquillamente su google scrivere SL parts eccolo qua e ce la do come prima sito oppure basta scrivere in alto qua a sinistra SL parts punto it ci clicchiamo sopra in questo caso invece andare andare sul selezionato auto e quindi andare in audi e selezioniamo il modello siamo direttamente sul kit a led selezioniamo la lampada che non interessa che sia un h4 un h3 o un h11 in questo caso per farvi l'esempio parliamo di h4 selezioniamo h4 ci apre un'altra schermata e selezioniamo il tipo di lampada che vogliamo acquistare e la differenza tra l'uno e l'altra questo kit che io vi ho fatto appena vedere è questo qua questo da 59 e 90 ci selezioniamo sopra ecco basta andare poi aggiungere il carrello e l'acquistiamo e adesso vi faccio vedere anche dopo come si fa il pagamento all'acquisto stesso all'interno di questo kit qua sotto qua abbiamo la descrizione dell'articolo che vi dice il tipo di connettore il kelvin della per quanto riguarda luce della della lampada la potenza la durata e tutte queste cose poi che comunque sono delle caratteristiche tecniche della della lampada stessa una volta scelta la lampada che interessa basta facciamo aggiungere il carrello andiamo su procede al pagamento ci registriamo ecco qua e c'era tutta una torta di dell'acquisto che abbiamo fatto stesso quadrecito codice proporzionale andiamo a scrivere antimo vaga clicchiamo su ok e ci dà un ulteriore sconto al prezzo di acquisto così la stessa cosa con le altre luci che sia riserva h3 clicchiamo su h3 ecco qua e ci dà questo kit h3 noi in questo caso abbiamo acquistato questo qua e anche qui all'interno troviamo la descrizione dell'articolo la spedizione è rapida e gratuita arriva in 24 ore dal momento che andiamo ad acquistare il prodotto ed è gratuita voi non pagate nessun tipo di spedizione ok la stessa cosa vale anche con l'altra lampada h11 o indifferentemente che sia h11 h10 h9 in base al tipo di lampada che noi andiamo a sostituire andiamo a selezione la nostra lampada ok ragazzi e per oggi è tutto stesso all'interno della descrizione del video vi lascerò un link per quanto riguarda l'installazione di un kit luce a led vi farò vedere come si smonta il kit originale e luce originale e andiamo a montare un kit di questo qua e anche voi l'effetto finale ok ragazzi ragazzi e per oggi è tutto come sempre vi consiglio di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto condividere i miei video ragazzi vi raccomando un bel mi piace se il video vi è piaciuto e che dire per qualsiasi altra cosa scrivetelo nei commenti così in modo totale quello che posso fare sarò lieto e felice di potervi aiutare ok ciao ragazzi al prossimo video grazie